Papi, come mi sta? Bellissima Leona Laaaaa! Te mi non �� non ci estetou. Ai che le gradi si ca io che n'�� passano a me fortunuè? Ui che non è a Pondadino che aveva fatto bene? Mi ha dato avuto e mi è soかった buggobile, ma so molto. Mamma capi e di me preparare. Ma come si mette qui è un po' Nuno Vig�, non mi è un po' Nuno. Ma non mi hai scusso, per capa qui. Mamma l'argo a Franca, la gamine non. No, non la conosco. Oh, non la conosco, eh, Enrico? C'è l'altro, non è un po' di chanata per il suo amore? E' un po' di fattere un po' di chanata, non è un po' di chanata, non è un po' di chanata. E' un po' di chanata, non è un po' di chanata. Non è un po' di chanata come stu al amare, non è un po' di chanata, non è un po' di chanata, non è un po' di chanata. Appentin süato diezza, non è un po' di33, non è un po' di chanata. E non è un po' di chanata, siloga, è unacinomerta, non ... E poi un mese, n'abbè n'abbè? Ah, così è, è buona buona! E' parecchio! Noi amo della fortuna! Sono della pura segura sotto sopra il mondo! E' parecchio tutti i soldi d'arte da mano che fu il bacchione! E tu ne ho 17 anni, sto forse! Ero la minorena, capitano! Dice di minore, eh? E poi da moralità facciamo, sto perché d'abrivo! Stavato un ritmo pavarco, un fosci di la lìx, e' ma il fosci papà dicci. So lasso! Tu sei già da un niz! E' certo, sono un progetto tutto tutto il malacca! E' un malacca! E' un malacca! Riro, papà, anche il sostanz! E' un malacca! E' un malacca! E' un malacca! Papato! E' un malacca! E' un malacca! E' un malacca! E' un malacca! Avuto però, eh, approfittarsi di una ragazza di 17 anni! Il Pudino! Sì! E' un malacca! Mi ha scappato, eh? Ma non ti ho capito, non è per un rom! Si chiamano Gucci! Eh! Guardate, non resta più a farmi insultare, me ne va! Eh no! E' un malacca! 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 si chiama del DNA avvocato? c'è sua sorella che rigo, fratellino mio, sono andata a chiamare ah, lei è sua sorella? mi fa piacere di contrarla immagino che suo brattino non vi ha raccontato mai qualsiasi profettino da me ne metti 17 anni e io dico ma 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 cosa siete su staff? ma non è una pezzi ma non è una pezzi non è una pezzi si, ma poi me la pagherete ma pagherete, scusa, pagare tu ma io non è una pezzi non è una pezzi ma non è una pezzi ma non è una pezzi sono grandi abbastanza e voglio sapere chi è questa signorina e che cosa vuole da te lei non è da spiegare sull'alizione ma non è tanto le date ma non è una pezzi ma non è una pezzi ma non è una pezzi e chi ci sono? quando io avevo 17 anni ero una pezzi ma non è una pezzi e come mi ha scaldato? prima mi ha seduto e poi mi ha fatto una pezzi ma che vergogna ma era una bambina ma non ci sono le dente ma non sei bufato ma ci sono il suo cibo ma che cosa vuole che non è una pezzi ma non è una pezzi e io non sono i miei mi sono i miei scendi e si è una pezzi ma io mi ha desiderato perché si può fare e non c'è ma non ci sono i miei dieci ma non ci sono i miei ne ha chiamato la madre ma c'è lei va a fare una busta birto ieri non so stai capisci più no sei una svergonata vede l'ho detto Sintra Marchesa questa ciava è tutta buona come sa te non l'avete bu la famiglia ma tu non mi hai covulto la cosa che a me non si poteva costa mando un guagnone ma c'è te ritenuto il mufascista può ralassare pur c'è pur c'è pur c'è pur c'è pur c'è raccorrezza la mamma e la te ha apris ma la gara garanzia ma lei è la mamma ma lei è papagnolese ma lei scusa eh ci sono una volontà in barca santa la mamma non sapevo e io che a tenevo un frate e a me andate qui mi facendo i predi e c'è facendo un mucetone con i fermi e ora da una ma signorina e ci dice volevo cagliare a caso vedem e mettiamo la curva e chiariamo questa situazione c'è il pensato 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 e non mi ha fatto un bel giulato a me poi ci vuoi piacere Grazie a tutti.